In questa edizione del DNews, nuovi interventi della Guardia Costiera per soccorrere migranti in difficoltà, 288 profughi tratti in salvo, intanto sbarcati nel porto di Catania, 196 profughi. Tragedia San Giovanni-La Punta, cauto ottimismo per la quattordicenne ferita. Nell'iscilarba sentita per due ore e mezzo dai magistrati, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta conoscitiva dopo il fallimento del piano Giovani. L'Associazione Centro Diritti per i Cittadini firma protocollo d'intesa con il gruppo Lars Dinello Musumesci per dare assistenza legale gratuita ai giovani che hanno partecipato al Click Day. Redicanzian dei Pu si confessa ai nostri microfoni in vista del concerto di domani a Mascaluccia. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it. Campagna Etica 2014, abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Continuano le operazioni di soccorso della Guardia Costiera nel Mediterraneo, tratti in salvo la notte scorsa 288 migranti in due diversi interventi, lo riporto un comunicato. La prima richiesta d'aiuto è stata inviata mercoledì da un barcone con 200 migranti a bordo, tra cui 39 donne e 79 minori che navigava vicino le coste libiche. La centrale operativa di Roma ha dilottato sul posto la nave militare canadese Toronto che ha fornito assistenza ai migranti. Una volta arrivato nelle acque territoriali italiane, il barcone è stato raggiunto a luna di stanotte da due motovedette a circa 130 miglia dalle coste siciliane. La CP 304 di Pozzallo e la CP 232 di Siracusa hanno provveduto al trasbordo dei migranti, sbarcandoli al porto di Pozzallo. Un'altra imbarcazione è stata invece soccorsa in prossimità delle coste di Vendicari vicino Siracusa, dove si era incagliata a circa due miglia dalla riva, tratti in salvo 88 migranti di presunta nazionalità siriana irachena e afghana, tra cui 15 donne e 25 minori, raggiunti dalla battello GC B50 e dalla motovedette CP 832 e CP 763. I migranti sono stati trasferiti nella località di Marzamemi, in provincia di Siracusa. C'è un cauto ottimismo tra i medici sulle condizioni di salute della 14enne accoltellata ieri dal padre Roberto Russo, che ha ucciso anche l'altra figlia di 12 anni e poi ha tentato il suicidio. La giovane paziente rimane stabile con la prognosi riservata ricoverata nel reparto di reanimazione dell'ospedale Garibaldi, centro di Catania. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della famiglia San Giovanni-La Punta. La 14enne ha subito una lesione dell'arteria mammaria interna con conseguente copioso sanguinamento, che ha richiesto la trasfusione di numerose unità di sangue, oltre ad una lesione all'addome. Le condizioni cliniche della giovane paziente spiegano dal reparto di reanimazione dell'ospedale Garibaldi, diretto dal dottor Sergio Pintaudi, dopo una prima fase di grave instabilità emodinamica, sono oggi stabilizzate. In atto la paziente è sottoposta a sedazione e ventilazione meccanica per la necessaria protezione d'organo. Pertanto, sottolineo i medici che l'hanno in cura, le condizioni cliniche attuali, pur in costanza di riserva della prognosi, consentono un cauto ottimismo. E sta per essere istituita alla famiglia la salma della dodicenne. Il sostituto procuratore di Catania Agata Santorocito ha firmato in nulla osta necessario. Il magistrato, che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia di Gravina e del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, ha ritenuto di non fare eseguire l'autopsia, valutando sufficiente un esame medico legale esterno. Per gli investigatori, infatti, la dinamica dell'accaduto è stata ricostruita con certezza. La dodicenne, dopo l'aggressione mortale da parte del padre, è stata ricoverata d'urgenza nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato anche Russo, ma è morta subito dopo l'arrivo e il corpo è stato trasferito nell'obitorio del nosocomio. Erano a letto tutti e tre nel lettone matrimoniale quando Russo, alzatosi per afferrare l'arma, ha inferito senza dare il tempo alla piccola di reagire, mentre la grande ha gridato, destando l'attenzione dei due fratelli che dormivano nella stanza accanto. 17 anni il primo, 22 il secondo. L'ho visto la sera prima, era tranquillo, così afferma sotto shock la moglie di Roberto Russo, incredula per una tragedia che anche per lei era inimmaginabile. Giovedì sera ho visto mio marito, avrebbe raccontato la donna, ero tornata a casa per salutare i ragazzi ed era tranquillo. Anche i conoscenti e i vicini di casa dell'uomo non sanno dare una spiegazione. È una persona tranquilla, un grande lavoratore, dice il titolato di un negozio a pochi metri dall'abitazione, in cui è avvenuta la tragedia. Era stato licenziato due anni fa, ma si dava sempre da fare per portare avanti la famiglia. Sapeva fare tutto, come elettricista poi era il migliore. Il tempo delle tarantelle è finito. Anche da quest'ultima vicenda, il fallimento del click day del piano giovani, ciò che emerge è la necessità di un deciso passo avanti. A dirlo è il segretario regionale siciliano del PD Fausto Raciti, intervenendo sulla nuova bufera che si è abbattuta sull'esecutivo targato Rosario Crocetta dopo le indagini aperte dalla Corte dei Conti e dalla Procura di Palermo sul pasticcio del piano giovani. Una vicenda su cui il leader democratico però non vuole ancora esprimere giudizi. Aspetto di aver chiari alcuni elementi, spiega, ma è certo che sia Crocetta che l'assessore alla formazione Scilabra sono chiamati ad una valutazione politica attenta. Anche se, puntualizza, il tema non è mettere le teste sul tavolo. Certo, secondo il leader dei democratici di Sicilia, al di là delle valutazioni tecniche, l'errore in questa storia è stata l'impostazione sbagliata, l'eccesso dell'intermediazione della regione. Un fallimento che si aggiunge a una gestione zoppicante del settore della formazione e allo scaricabarile sui dirigenti generali. Tutti elementi che impongono un cambio di passo deciso. E il cambiamento passa per il rimpasto, chiesto da mesi dagli alleati al governatore Rosario Crocetta, annunciato come imminente all'inizio di agosto e poi nuovamente stoppato. Proprio per discutere della rosa di nomi di papabili assessori, Raciti convocherà i parlamentari democratici dell'Arsi primi di settembre. La riunione del gruppo spiega servirà a chiudere questa proposta slittata a causa dei tempi lunghi della finanziaria. Una proposta unitaria che andrà accolta in toto o rifiutata. Un elenco di nomi in cui non è previsto quello di Nelli Scilabra. Non ci sarà comunque stata, conclude Raciti. Scilabra nasce da una scelta di crocetta e non la considero parte della delegazione del PD. Per due ore e mezzo, dalle 11.30 alle 14, Nelli Scilabra, assessore regionale alla formazione professionale, ha risposto alle domande dei magistrati della Procura di Palermo. In veste di persona informata dei fatti, ha fornito ai PM i dettagli e gli elementi di sua conoscenza circa il piano giovani su cui la Procura ha aperto un'inchiesta conoscitiva dopo il fallimento del bando a causa del collasso del sito internet predisposto per ricevere le domande. Al momento non ci sono indagati. L'interrogatorio si è svolto in una sede insolita, anziché al Palazzo di Giustizia nella sede della squadra mobile in Piazza Vittoria. Motivi di opportunità non meglio precisati hanno spinto gli inquirenti a mutare la sede della convocazione. L'indagine è stata avviata dal procuratore aggiunto, Dino Petralia, ed è portata avanti dai sostituti Padova e Battinieri. Si continua a parlare del piano giovani e caos. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta. Alcuni hanno chiesto le dimissioni dell'assessore alla formazione Nelli Scilabra, altri della dirigente Corsello. Insomma non si placano le polemiche. Intanto a pagarne purtroppo le conseguenze sono i tanti giovani che hanno cliccato per appunto partecipare a questo bando, poi andato come sanno tutti. Intanto l'associazione dei consumatori, centro per i diritti del cittadino, ha firmato un protocollo d'intesa con il gruppo Allars Nello Musumeci proprio per dare assistenza legale gratuita. Sì, con la lista Nello Musumeci per Catania, con il coordinamento della lista regionale abbiamo siglato un protocollo d'intesa per valutare intanto la possibilità di agire contro la regione e di tutelare quindi tutti i giovani, tanti giovani che sono stati purtroppo illusi da questo fantomatico piano giovani del governo Crocette e dell'assessore Scilabra. La nostra intenzione è quella appunto di poter tutelare tutti coloro che in quel famoso giorno hanno riposto in quel click tutta una serie di legittime aspettative, di sogni da questo punto di vista e che si sono trovati invece poi a confrontarsi con l'ennesimo fallimento in salsa sicula. Ecco perché riteniamo che sia importante questa volontà da parte della lista Musumeci di voler garantire tutti i giovani che hanno fatto richiesta e hanno partecipato a questo concorso, a questo click day. Per questa ragione abbiamo insieme ad un pool di avvocati stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni e tutte le storie e le adesioni che ci stanno pervenendo da parte di tutti coloro che hanno partecipato al click day. Stiamo studiando, analizzando caso per caso e nei prossimi giorni ricontatteremo tutti per ragionare e capire come poter offrire loro assistenza legale gratuita e per poter far valere i propri diritti contro quello che si è rivelato un grande blef, un fallimento e come al solito a farne le spese, a pagarne le conseguenze sono stati tantissimi giovani che invece avevano creduto e voluto spendere un'ulteriore voglia e soprattutto investire il proprio futuro in Sicilia che per tantissima volta si sono trovati di fronte ad un muro di gomma. I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 34enne Caggeggi Giacomo di Misterbianco in esecuzione di un ordine di espiazione pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo condannato a un anno e quattro mesi di reclusione riconosciuto colpevole del reato di falsa testimonianza commesso a Catania nell'ottobre 2002 dovrà scontare la pena ai domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria. Ad Acicastello è stato arrestato in fragranza il ventenne Fiorenza Luca di Catania ed altre due persone rispettivamente di anni 39 e 40 entrambe di Acireale per furto aggravato in concorso. I tre malviventi in un agrumente metodi via Biscari avevano già rubato e caricato una macchina, una Fiat 500L, 250 kg di limoni verdelli. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. I carabinieri invece di Aci Sant'Antonio hanno arrestato in fragranza il 42enne catanese Sant'Oro Arnaldo per evasione dagli arresti domiciliari in via Ragusa a Catania, immediato l'arresto e il ricollocamento ai domiciliari in attesa di condurlo dinanzi al tribunale di Catania per la direttissima. I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno arrestato in fragranza il 46enne Ciantia Angelo di Ramacca per tentato omicidio. Il tutto sembrava scaturito da alcune divergenze nel rapporto di convivenza tra il ferito, un trentenne del luogo, e la figlia del feritore, una diciottenne. Difatti ieri pomeriggio il convivente ha invitato la famiglia di lei a raggiungerlo a casa per cercare di chiarire la sua posizione rispetto ai continui litigi con la ragazza. All'appuntamento si sono presentati il padre, la madre e il fratello minore, mentre ad attenderli in casa, oltre alla coppia, c'è il fratello di lui, un 26enne. Durante la discussione la coppia litica nuovamente. Il convivente infastidito colpisce al volto la ragazza con uno schiaffo. A quel punto scoppia un violente litigio che si trasferisce anche in strada. Quando il Ciantia, assalito dai due fratelli, estrae un coltello a seramanico e sferra alcuni fendenti ai due giovani. Fortunatamente i carabinieri avvertiti dalla moglie del Ciantia sono immediatamente giunti sul posto, riuscendo a disarmare ed arrestare l'uomo. I feriti trasportati all'ospedale Canizzaro di Catania sono tuttora ricoverati in prognosi riservata per ferite all'addome e al torace. Il coltello è stato sequestrato, mentre l'arrestato è stato associato al carcere di Caltagirone, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La polizia di AC Reale ha proceduto ad indagare un uomo di 59 anni di AC Castello per minacce gravi e detenzione abusiva di armi o messa denuncia. Presso il commissariato si è presentata l'ex convivente la quale, stato di visibile shock, aveva riferito di essere stato oggetto di minaccia di morte da parte dell'uomo, il quale in particolare le aveva detto «ti sparo un colpo in testa». Dal momento che durante la convivenza la donna aveva avuto modo di notare la disponibilità di armi da parte dell'uomo, la stessa temeva realmente per la propria incolumità personale. E quindi il personale del commissariato, collaborato dal reparto Prevenzione e Crimine di Catania, ha avviato una serie di perquisizioni in tutte le dimore di cui l'uomo aveva la disponibilità, compreso un locale pubblico di cui è titolare. In effetti è emerso che l'uomo deteneva fra l'altro senza cautele nella custodia una pistola, una revolver, un fucile, una carabina, circa 1500 cartucce di diverso calibro, nonché vari contenitori di polvere da sparo che sono stati tutti oggetto di sequestro. Dagli accertamenti è emerso che le armi appartenevano al defunto padre dell'uomo, il quale non aveva dempiuto alla denuncia di successione a connessi obblighi di legge. Per questo l'uomo è stato indagato per le violazioni commesse e per le minacce gravi nei confronti della ex convivente. Non solo Catania, sbarca anche a Pordenone e a Ferrara la protesta di alcuni commercianti contro i mendicanti che stazionano davanti ai negozi. A Pordenone un cartello che invita a non dare soldi ai mendicanti è spuntato nella vetrina di un grande negozio di oggettistica mentre davanti a un supermercato di Ferrara è comparsa una lavagna che invita i clienti a non elemosinare gli accattoni davanti al negozio. Il loro elemosinare, si legge, li permette di raccogliere dai 60 ai 100 euro al giorno, tanto quanto un operaio specializzato italiano considerando un importo netto senza tasse. Sulla stessa linea il cartello è comparso nei giorni scorsi davanti a un supermarket catanese che ha fatto molto discutere. Non fatele lemosine agli zingari davanti la porta perché guadagnano 60-80 euro al giorno, più di un operaio specializzato italiano e in maniera netta esentasse. I sempre più frequenti episodi delittuosi verificatesi di recente anche in alcuni centri siciliani ripropongono l'annosa questione delle truffe ai pensionati e in generale delle persone sole, prese di mira da soggetti che si spacciano per funzionari dell'Inps al solo fine di raggirare le proprie vittime. Ricordiamo a tutti i nostri pensionati che anche in Sicilia l'Inps non manda a domicilio propri funzionari per controllare pensioni e loro modalità di pagamento, scrive una nota l'Inps. Nessun soggetto è quindi autorizzato a verificare a domicilio libretti di pensione, libretti postali e bancari, lettere, codici personali di identificazione e ogni altro documento che in quanto strettamente personale non deve essere esibito per alcuna ragione a sconosciuti. Tale regola generale va seguita scrupolosamente soprattutto nel caso di soggetti che si presentano a domicilio con la promessa di un aumento di un beneficio o addirittura al fine di evitare una trattenuta sulla pensione e sulla prestazione in pagamento. Pertanto, riporta il comunicato dell'Inps, invitiamo ancora una volta tutti i beneficiari di una prestazione pensionistica o assistenziale Inps a non accogliere per alcun motivo eventuali richieste di incontri domiciliari, siano esse fatte di presenza o per lettero o per telefono da soggetti che si spacciano per funzionari Inps. L'unico scopo di queste azioni è infatti quello di truffare persone anziane è sole. Nessuna novità per i direttori dell'azienda Cannizzaro, Policlinico e L'Asp. Ancora tutto paralizzato, al Cannizzaro continua ad esserci un commissario uscente che è Palio Cantaro. Al Policlinico è rimasto il facente funzione Antonino Lazzara, mentre all'Asp c'è il nuovo commissario Lia Mure che verrebbe però a Catania solo una volta alla settimana. Al momento l'unica azienda sanitaria che si è rimessa in marcia è il Garibaldi, assegnata a Giorgio Santonocito. Quindi dobbiamo aspettare settembre con la prima seduta utile della Giunta. Da indiscrezioni sembra comunque che i due manager revocati in ottemperanza del decreto Renzi numero 90, che vieda in carica Picali a manager che sono già in pensione, siano stati raggiunti dalla nota della Regione che certifica l'avvio del procedimento di revoca. Ora i due manager avranno una ventina di giorni di tempo per fare le loro osservazioni e poi a questo punto la Regione dovrebbe chiudere la partita mentre i due dirigenti sospesi potrebbero a questo punto procedere nel ricorso al tarre. Nel frattempo la Procura di Catania l'11 agosto ha aperto un'inchiesta conoscitiva sulla revoca delle nomine di due manager. Agenti della Dicos di Palermo l'11 agosto si sono recati nella sede dell'assessorato dalla salute ed hanno sequestrato documenti sull'iter di nomina di Pelicano e Cantaro. E di qualche giorno fa la notizia non felice è arrivata sulla scrivania di alcuni dipendenti Wind Retail di Catania della volontà da parte della stessa azienda di avviare la chiusura del punto vendita Wind Retail, sito all'interno del centro commerciale Città Mercato di Catania. Sconcertante il fatto che ne sono stati informati frettolosamente alla vigilia di Ferragosto solo e unicamente i dipendenti del punto vendita oggetto di chiusura, piuttosto che le parti sociali attraverso un vero e proprio blitz dei responsabili aziendali. Questi ultimi si sono presentati improvvisamente nel punto vendita a consegnare le lettere di licenziamento per poi andare via furtivamente senza dare nessuna spiegazione agli addetti alle vendite. In quel momento tutti impegnati ad assistere i molti clienti che affollavano il negozio. La UGL Telecomunicazione si chiede come mai la Wind Retail non abbia dapprima convocato un tavolo di discussione insieme alle organizzazioni sindacali per evitare questi licenziamenti e trovare magari una soluzione anche temporanea attraverso eventuali accordi con le parti sociali. Il popolo delle vacanze, turisti, forestieri ma anche villeggianti locali sono sempre più in marcia sulle nostre arterie extraurbane e sino a domani, domenica, nelle versante orientale dell'isola si potranno superare i 500.000 veicoli sulle breve e lunghe distanze di cui oltre 400.000 in movimento sull'asse Siracusa-Catania-Messina. Bolino Rosso pertanto in direzione degli imbarchi dei traghetti e possibili code ai caselli di San Gregorio, Taormina e Tre Mestieri sul A18. Purtroppo non mancano gli imprudenti e la stradale che durante lo scorso fine settimana ha ritirato quasi 50 patenti, esattamente 46, continua ad essere inflessibile. Tenere sempre a memoria per informazioni riguardanti il traffico eppure il tempo che sembra stia peggiorando in alcune zone. Il numero della Polizia Stradale di Catania che è lo 095 54 72 12. riposa gli occhi e non pensare c'è la notte che ti aiuta e dormi e lasciami giocare a quando non sarai più qui a quando un giorno un nuovo amore ti riscalderà. Ho visto 60 volte fiorire il calicanto, è straordinario questo fiore particolare che soffermiamoci per un attimo su questo fiore. È un fiore curioso che ha fretta, che non vuole aspettare e vuole capire cosa succede intorno a lui, perché è quello che l'ho scelto, perché è uguale a me. Io ho sempre dormito poco perché ho pensato che chi dorme perde del tempo e chi sogna invece ad occhi aperti impara più cose di quelli che sognano ad occhi chiusi. E allora io sono come il calicanto, a gennaio lui c'è ancora il ghiaccio sui rami e fiorisce e io al mattino alle 7 sono in piedi, ma anche quando avevo 10 anni, che è pazzesco perché ogni bambino di solito è un dormiglione quando è piccolo. Io avevo sempre un casino di roba da fare, non avevo tempo per dormire. Di questi 41 anni con i Poo, intensi? Intensi, belli, fantastici, formativi, mi hanno aperto dei mondi, qualcuno spero di averlo aperto anch'io ed è stata un'esperienza fantastica, ma la cosa fantastica è che continua ad esserlo e noi stiamo già lavorando dai primi di gennaio con riunioni bisettimanali in cui mettiamo e portiamo tutto quello che abbiamo per la testa per mettere su un grande cinquantennale. E nel frattempo ci divertiamo a fare le nostre cose. Quindi Poo, c'è un momento di stasi? No, ci siamo fermati per ricaricare le batterie, pronti per fare un cinquantennale pazzesco. Come state preparando queste nozze d'oro? Niente, facendo i nostri concerti, facendo le nostre cose, divertendoci, avendo dei rapporti diretti col pubblico perché alla fine è un ping pong, quello che tu lanci torna indietro, è un po' come l'universo, se tu pensi sempre nel negativo ti torna indietro della roba negativa, se tu lanci nell'aria qualcosa di positivo prima o poi ritorna ed è così che ti ricarichi. Il tuo concerto è una ricerca anche su di te, è una storia anche della tua vita vissuta? È assolutamente la mia storia che però io non ho la presunzione di pensare che possa interessare a tutti, però la mia storia serve da impalcatura, da supporto a un racconto molto importante che io faccio dall'inizio alla fine, cioè il valore del sogno, il dovere che noi come genitori abbiamo di proteggere i sogni dei nostri figli e non permettere a nessuno che arrivi a spegnerglieli, ma soprattutto il dovere nei nostri confronti che noi abbiamo di tutelare i nostri sogni perché se noi smettiamo di sognare, di avere quell'entusiasmo che ti fa alzare al mattino e dire ok oggi devo fare qualcosa di importante, la vita non vale nulla. Se non c'è progettualità, se non c'è creatività, se non c'è passione, ecco io nel concerto racconto questo, racconto l'amore, la passione, il cuore che uno ci deve mettere in tutto quello che fa e quello che fai viene bene solo se ci metti il cuore e la passione, altrimenti si può anche evitare di farlo. Grazie per la visione!